Musica Sono ben 23 gli eventi culturali che il comune di San Gricorio Matese ha messo in cartellone per questa estate è iniziata ieri sera con le notti dei briganti, un appuntamento sempre molto atteso e che si ripete ogni anno continuerà questa sera e poi via via fino al 20 agosto quando si chiuderà la lunga Kermes estiva che ha rivitalizzato il piccolo comune Matesino anche perché sono in tanti anche i turisti di passaggio e molti altri quelli che soggiorneranno come ogni anno a San Gricorio un centro che per la bellezza dell'ambiente e per l'ospitalità dei residenti diventano un punto forte per attrarre il turismo Da San Gricorio Matese è tutto a Lorenzo Applauso per casertasera.it